Un saluto a tutti e ben ritornati da The World 125 nuovamente su Panzerkorsk, la nostra battaglia di Kursk. Kursk è già caduta nello scorso episodio e adesso ci stiamo accingendo ad assediare la città di Suza, che è l'ultimo obiettivo che ci rimane da conquistare ma c'è una grande difesa da parte dei sovietici in questa zona. Allora io vorrei comprare un'artiglieria di nuovo perché il nostro esercito manca di artiglieria e secondo me un economico Hummel potrebbe essere quello che fa il caso, forse un Vesp, no, forse il Panzerwerfer, Panzerwerfer, come è il Panzerwerfer, beh, lo speriamo qua cattivo così il prossimo turno lo facciamo usare. Passare il turno, aia che botta, qua c'è un'altra artiglieria, qua c'è un'artiglieria, ricordiamoci le posizioni, ok, sono abbastanza sulla difensiva adesso, eh. Allora. Ok, non gli ha fatto nulla, vabbè. Cerchiamo di danneggiare i più possibili, dai non gli abbiamo anche sparato. Non siamo fortunati, no. Ok, tu attacca questo. Non riusciamo a fargli del male fisico, vabbè, glielo facciamo noi adesso il male fisico. Ok. Eh, sti cazzi, il Tiger, quanti danni che subisce. Ok, va bene. Poi. Non so, qua è la zona più... Proviamo a muverti qua, vediamo se c'è gente, c'è un'artiglieria lì. Ok, va bene, finché l'artiglieria mi sta bene. Allora, dobbiamo muoverci in fretta e furia verso sud. Qua è davvero difficile riuscire a passare, maledizione. Sparci un colpo. Questi sono delit, sono guardi delit che però a meno 4 glielo abbiamo fatto e loro a meno 3, va bene. Dobbiamo di fargli più danni possibili. Eh, meno 3 non è proprio quello che speravo, però. Tu ti resupply, tu avanzi, tu avanzi, tu avanzi. Ok. Ah, speravo almeno in un menù uno. Surrenders, bene, 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 Weasley Senior. E adesso il prossimo turno attacchiamo... Quell'artiglieria è di merda laggiù. Tu avanzi in fretta e furia. Tu avanzi in fretta e furia. Altra artiglieria che ci fa ulteriormente comodo. Tu vai a combattere questo. Tu rinforzi dell'elite. Tu fai così. Tu ti ci metti dentro. Ah, è questo qua non ha più munizione. Mea colpa. Mea grandissima colpa. Tu hai sparato l'ultima cartuccia. Ok, tu. Perfetto, tu vai via. Conquisti questo. Tu supplies. Tu spari lì. Fai danno. Questo lo cerchiamo di farlo... Per prenderci dei punti extra che non fa mai male. Ok, perfetto. Mi sa che non riusciremo mai a farlo in tempo... Per fare una vittoria, diciamo... Decisiva, ma fa lo stesso. Adesso passei. Ahia, questo qua lo perdiamo di nuovo subito. Ah, invece no. E invece no, e invece no. Ehm... Advance. Allora, ci circondiamo il più possibile. Tu fai meno 2, 0. Me la rischio? Me la rischio. Me la sono rischiata bene. Ritirati. Ok, rischiata anche qua, eccellente. Avanza fino a qua. Adesso qua dovremmo avere la superiorità. Fai scimiega. Dai, non ci chiedo che non l'abbiamo fatto nemmeno uno di danno. Ha scontato tutto in una volta sola, in compenso. Ok. Stuka! Stuka, stuka. Cosa ti faccio fare a te? Stuka. Stuka, mi lo stuka. Ok, mi sta bene. Guarda, dov'è stato fuori questa artiglieria. Questa artiglieria randomica qua. Perché non spara? Mi ha detto che sparava. Ma va a cagare, va. Ok. Occhio che però qua potrebbe essere a rischio. Ok, avviciniamoci lì. Poi. Portiamo questo sempre qua. Qua mi sono ritirato di farlo attaccare. Poco male. Ok, dai. Ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. abbastanza agilmente. Ok. Anche questo artigliere si muove un po' lentamente. Oh, cribbio! E questi dove cazzo sono spuntati fuori? Datemi un aereo subito. Vai in esplorazione qua. Che cazzo succede qua? Entracci dentro. Oh, cribbio! Meno male che avevo lasciato quelle unità laggiù. E tu tornerai indietro immediatamente. Ok, passiamo il turno. Andiamo a dare un po' di rinforzi così in giro. No, passiamo. No, la mia tiglieria! No, la mia tiglieria! Ritirati, ti prego! Oh, che culo! Eh, questo non mi piace. Gesù santo! Ma questo è dove cazzo sono saltati fuori? Ok, quanto meno questi li abbiamo... Eh, però è entrato dentro. Anche no, amico mio, anche no. E questi dove cazzo sono spuntati fuori? Tu immediatamente resuppliati. Questi mandiamoli verso nord. Anche lui. Dava meno quattro, mi dava. Eh... Che cazzo ti ha detto di sparare? Ritirati. Fai sparare lo Stug. Incredibile come non riesca ad avanzare qua. Merda! Questa cazzo non c'era prima. È apparsa all'improvviso. Ok, tu ti ritira adesso qua su. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto. Mi sono andato un po' nel panico con ste... Tu rinforzati. Ok. Ok, tu avanza fino a qua. Anzi no. Oh, è stato un attimo nel panico con tutti questi carri che arrivano senza motivo logico. Allora, iniziamo a fare un po' di danni con quelli che non sono miei. Eh, se lo facessero però danno. Ok. Passiamo il turno. Vabbè, quello non è mio. Non mi interessa. Quindi puoi anche distruggermelo. L'attiglieria mi fa girare i coglioni se me la distruggi. Eh, anche questo mi girano un po' i coglioni. Allora, gestiamo prima la situazione qua. Ma ce ne sono altri due. Ce ne sono altri due. Spawnano così adesso. Lasciatemela dire che questa però è una grandissima cazzata. Che in fretta e fuia debba... Deba portare truppe a nord perché mi stanno fottendo. Non mi piace come meccanica. Allora, spara con l'attiglieria prima su questo. Benissimo. Poi tu rinforzi. Tu, Ictairo, incominciare un po' di esperienza. Rinforzati. Che palle che non muoiono. Poi speriamo morissimo uno di questi due. Spara. Ma dai, ma non ci voglio credere che non sia morto ancora. Alleluia. Ok, bene. Avanza. Adesso abbiamo tre turni. Che devo riuscire a gestire in modo anche abbastanza... Oh, che rischio. Diamo un'occhiata agli aerei. Ma che giusto di rimanere abbastanza equilibrata la difesa. Adesso tu mi ti rinforzi. Se tu sali in fretta e furia... Quassù. Nei, poi anche se... Fuggi. È l'unica cosa. Fuggi. Poi mandiamo l'elefanta a distruggere. E anche lui sale... In fretta. Merda, speravo... Sto carretto di me... Speravo fosse un po' più debole. Passiamo. Va bene, questo qua... Tanto dopo ti uccide il turno dopo. Ok. 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 Dai, che ce la dovremmo fare. Benissimo. Facciamoci entrare dentro i falcimiere. Perfetto. Ok. Dovremmo avercela fatta. Figli di una cagna. Ah, che merda. Ma che sta di nuovo? Ok. Tu dovresti riuscire a far fuori questo. Questo che cazzo è? Perchè il Flak 36 è venuto qua? Eh, dai un'occhiata qua che non ci sia... C'è sempre quel carro, ma sono proprio altri. Ok, dovremmo riuscire a vincerla. Ah no, manca ancora Kursk, ma Kursk la prendo con lui. Rinforziamo tutto il rinforzabile. Tu non sei mio, tu non sei mio, tu sei mio. Ma non posso rinforzarti. Tu ormai sei troppo forte per perdere punti. Vai, passiamo il turno, incrociamo le dita. Non è mio, muori. Oh, che rischio. Meno male che non mi sembra l'ha ucciso. Vittoria marginale. Beh, dai, meglio che niente. Abbiamo rischiato tantissimo. Non me l'aspettavo una cosa di questo tipo. Tra l'altro questo stava per arrivare qua e qua sarebbe stato il problema perché sarebbe dovuto tornare indietro. Davvero, non me l'aspettavo una cosa di questo tipo. Uno spawn di carri così. Questo non ha perso un punto dall'inizio della partita. Penso proprio sia lui quello che non ha perso manco un punto, forse. Forse uno, comunque è strepitoso. Voglio vedere un attimo la storia di questo. Ce l'abbiamo dai paesi bassi questa unità. Ha ucciso tre cifranterie, tre anticaro, tre attiglierie, tre antiaere. Wow. Fasci miei che ce la dovremmo avere dalla Francia invece. E' già ucciso anche lui parecchia roba. Tiger non... Non è che abbia fatto un gran caro in questa partita. Comunque, io vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo vinto al pelo, al pelo. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.